In questa puntata approvato in consiglio regionale il piano dei rifiuti. Domenica 8 ottobre torna la Casentino Bike. Inaugurata la mostra fotografica Visioni Libere. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, piano regionale dell'economia circolare. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente ma che viene data anche all'economia perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. Noi siamo consapevoli che è una proposta importante ma che ha ancora anche bisogno di alcuni perfezionamenti. C'è stato un bando che ha puntato a recepire la volontà di realizzare impianti anche innovativi che non hanno emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo visto che questi impianti sono proposti in molti territori ma mancano invece in altri territori e il lavoro che deve essere ancora fatto è quello anche di stimolare, di accompagnare dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale tutti i soggetti interessati soprattutto le comunità d'ambito affinché in ogni territorio ci sia una dotazione impiantistica adeguata in maniera tale da poter trattare i rifiuti facendoli circolare il meno possibile perché con più i rifiuti vengono trattati correttamente in prossimità e con più ci sono dei risparmi economici e migliora sicuramente il bilancio ambientale. Il piano è un piano che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione nascondendosi un po' dietro le norme ma in realtà a nostro avviso come l'ho detto in aula l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ato per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termo valorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo e di questo si preoccupano soprattutto gli addetti ai lavori e sono molto costosi, pensate a waste to chemicals, 200 milioni, 250 milioni il costo, mentre invece il termo valorizzatore è una tecnologia che conosciamo che nel tempo è assolutamente migliorata dal punto di vista dell'impatto ambientale e che inevitabilmente chiuderà il ciclo o cercherà di chiudere il ciclo perché ad oggi le difficoltà sono grandi, basta vedere quanti rifiuti vanno fuori dalla regione, vanno fuori dall'Italia e dalla Toscana e quindi quanto è da un punto di vista economico il prezzo che i cittadini si trovano a pagare ogni giorno in Italia. Poi c'è un altro tema importante che potrebbe essere sfuggito non essendo un tema classico, durante le audizioni la responsabile per la partecipazione ha criticato fortemente la procedura di approvazione del piano e ha messo in evidenza degli elementi dicendo che c'è il serio rischio che questo piano venga impugnato e che possa essere annullato e anche questo è un elemento sul quale ho richiamato l'attenzione del Consiglio regionale e della Giunta perché altrimenti il tempo veramente si rischerebbe di perderlo e seriamente. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da dieci anni ed è quasi pronto da tre e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati. È un rovesciamento completo invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato respinto dalla popolazione che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi utility grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dal Comune di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Ecco il guadagno che avranno i cittadini da questo piano che è assolutamente sconclusionato nella nascita come matrice iniziale e soprattutto per gli obiettivi che sono belli sulla carta ma in realtà irrealizzabili. Ma in Italia è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della piana fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni, che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Gianni e in questo caso all'assessora Monni. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello del lato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sì, è una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi nell'adottare questo piano vuol dare alla Toscana. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane. Però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria perché poi questi impianti, anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Appuntamento da non perdere per gli appassionati di mountain bike, quello con la Casentino Bike arrivata alla trentesima edizione. Un anniversario condiviso con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e per l'occasione la gara entrerà nel cuore del parco, sui tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione, come il Sentiero dei Tedeschi e il Passaggio del Lupo. Una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni. Quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa, tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli, fa parte della Coppa Toscana e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Vibbiana che lasciatemi dire è uno dei più belli della nostra provincia di Arete e di tutta la Toscana. Per noi è un appuntamento importantissimo, è un traguardo che sognavamo già da tempo e fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo, cosa non da poco perché manifestazioni importanti che reggono nel tempo è un applauso a loro che vuol dire che c'è una stabilità solida e duratura. È stata inaugurata la mostra fotografica Visioni Libere, curata dal Fotoclub Firenze nello spazio espositivo Carlo Azzelio Ciampi a Palazzo del Pegaso, un'esposizione per celebrare i 33 anni di nascita del club. Visioni libere, lo sguardo un po' pensato che è dovuto alla fotografia ci invita a un rapporto più immediato con la realtà. La fotografia è qualcosa che deve essere sostenuto, valorizzato. Sappiamo quanto questo palazzo si è aperto verso l'esterno con tutta una serie di iniziative, di mostre. La fotografia merita la giusta considerazione. Oggi siamo abituati un po' tutti con il telefonino a fare dei scatti, possibilmente dei selfie, ma la fotografia è qualcosa che viene da molto lontano e che ci invita alla riflessione, è qualcosa di intimo, di profondo. Tutto questo è importante anche per questa bella esposizione dove troviamo ben 15 foto amatori di Firenze e dintorni. Questi scatti intitolati Visione libere perché abbiamo dato spazio agli autori di esprimersi nella maniera che volevano loro. Non c'era un titolo preordinato e non dovevano fare sforzi eccessivi. Il nostro è un circolo che ha 33 anni quest'anno e in questi 33 anni abbiamo conosciuto molti foto amatori che per un esame, per una cosa così, per un hobby, che era un hobby quello di fotografare tutti, con le nostre riunioni, con le nostre mostre, con le nostre attività li abbiamo elevati a immagini culturali sempre più belle. Grazie per la visione!